Kerem Bursin, negli ultimi giorni, è in modalità social silenziosa. Si è recato a Madrid per qualche giorno di vacanza. Sarà solo per un po' di riposo? Per alcuni potrebbe non essere così. Infatti si vocifera che l'attore sia volato in Spagna per dei progetti lavorativi. Intanto prosegue la vacanza di Handel Ersel a Milano e la stampa turca ha rilasciato qualche dettaglio in più sul soggiorno delle sorelle Ersel nella città meneghina. Se Handel Ersel si trova in vacanza a Milano, Kerem Bursin da qualche giorno è arrivato a Madrid. Ma prima di continuare a guardare questo video ricordati sempre di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sulle novità. A confermare tutto ciò sono state le tante foto postate dalle fan sui social ma soprattutto quella con la cantante spagnola Natalia Rodriguez che ha suscitato tanto interesse tra i media. Kerem Bursin è arrivata in Spagna abbastanza silenziosamente senza condividere nulla sui social ma la sua presenza non può di certo passare inosservata soprattutto per le fan più accanite. Ma allora Kerem Bursin potrebbe avere dei progetti lavorativi in Spagna? Ultimamente Kerem Bursin si vede spesso in Spagna. Recentemente è stato ospite al Festival di Malaga dove ha avuto la possibilità di incontrare Antonio Banderas e chissà, magari potrebbe essere in terra iberica proprio per un nuovo progetto lavorativo. Lo stesso Kerem, quando è stato a Malaga, ha incontrato l'attore Carlos Bardem e su Instagram aveva dichiarato che insieme a lui avrebbe dovuto parlare di alcuni progetti. Insomma, le indiscrezioni potrebbero diventare realtà. Prosegue intanto la vacanza di Andelersel a Milano. Infatti la stampa turca si sta occupando moltissimo di questa vacanza milanese di Andelersel e Gamze Ersel, le due sorelle. Secondi media, anche durante la loro vacanza, proseguirebbe il loro lavoro di influencer. Infatti, a quanto pare, il soggiorno al Bulgari Hotel di Milano sarebbe gratis in cambio di pubblicità sui social. Infatti le sorelle Ersel insieme hanno un bacino di follower che supera i 30 milioni e il loro soggiorno varrebbe circa 20.000 lire turchi a notte, poco più di 1.200 euro. Nel frattempo prosegue la vacanza in giro per Milano, per il centro, e nella serata del 4 aprile, Andel e Gamze si sono fatti immortalare proprio di fronte al Duomo. Alcune fan sperano di vedere Andel ospita verissimo, visto che martedì 5 aprile andrà in onda il finale di serie di Love is in Tear. Ma al momento questa possibilità sembra abbastanza remota. Infatti, si accontentano di scattare almeno una foto con lei. Sul web sono presenti tantissime foto con i fan a regalare selfie un po' a tutti. e le foto sono specialmente fatte all'ingresso dell'albergo in cui alloggia, per ovvi motivi. Ma torniamo a Kerem. Questo viaggio fatto in silenzio infatti fa pensare che Kerem sia a Madrid non solo per una semplice vacanza, ma per dei progetti lavorativi. Potrebbe essere un nuovo progetto, una serie, un film. Tutto ciò lo potrai scoprire continuando a seguire questo canale, iscrivendoti, cliccando sulla campanellina e condividendo il video per far conoscere le ultime notizie a tutte le persone che hanno i tuoi stessi interessi. Alla prossima notizia!